Esmeralda Vetromile, madre di Gian Maria Antinolfi, ha passato in rassegna le relazioni del figlio. Da Belen Rodriguez all'accusa a Soleil sorge, lo ha attaccato per motivi che attengono credo alla voglia di visibilità. Esmeralda Vetromile, madre di Gian Maria Antinolfi, ha rilasciato un'intervista al Corriere nella quale ha parlato delle vicende amorose del figlio. L'imprenditore è diventato un nome noto, grazie alla brevissima relazione avuta con Belen Rodriguez. Esmeralda Vetromile, però, non era tra coloro che facevano il tifo per questo flirt. A conferma della voglia di famiglia di Gian Maria, da Belen voleva un figlio. In quanto a me, ho pensato, speriamo finisca presto. Lei è una donna molto intelligente, una azienda che cammina, non lascia spazio, è un fulmine, molto concentrata su se stessa. Ma effettivamente questa storia è stata l'inizio di tutto. È così che si è trovato catapultato in questa situazione. Nella casa del grande fratello Vip, Gian Maria Antinolfi si è avvicinato a tre ragazze, Soleil Sorge, Sofico Degoni e Federica Calemme. In merito a Soleil, la signora Esmeralda ha le idee molto chiare, la sua ex Soleil ci ha un po' marciato, lo ha attaccato, per motivi che attengono credo alla voglia di visibilità. Quanto a Federica Calemme, invece, ritiene che suo figlio abbia la tendenza a proiettare sulla ragazza che ha davanti, il suo sogno di costruire una famiglia tradizionale, senza aspettare di conoscerla e scoprire come è veramente. Grazie. Grazie.